Uomini e donne, anticipazioni febbraio, Maria lavoro ad Alice, Riccardo esce furioso. Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del mese di febbraio 2023 rivelano che ci sarà spazio per una importante proposta di lavoro che verrà fatta da Maria De Filippi ad una delle giovani corteggiatrici del trono classico. Occhi puntati anche su Riccardo Guarnieri che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, si ritroverà a lasciare lo studio, furioso e amareggiato dopo una serie di attacchi ricevuti. Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del prossimo febbraio rivelano che la giovane Alice riuscirà a catalizzare l'attenzione di Maria De Filippi, dopo aver svelato di essersi ritrovata senza lavoro. La pretendente di Federico Nicotera, inizia per la scelta finale, è stata licenziata dal suo datore di lavoro per le troppe assenze fatte nel corso dell'ultimo periodo. E, il motivo di tali assenze, hanno a che fare proprio con la partecipazione di Alice alle registrazioni del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. Per tale motivo, quindi, Maria offrirà un lavoro ad Alice. La padrona di casa. Infatti, deciderà di intervenire e senza farsi troppi problemi, farà presente alla ragazza che può offrirle tranquillamente un posto di lavoro all'interno della sua casa di produzione. Insomma, Alice riceverà un'offerta lavorativa a tutti gli effetti da parte di Maria De Filippi. Pronta ad accoglierla all'interno del suo staff. Occhi puntati anche su Biagio e Carla, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne del mese di febbraio. Rivelano che i due si ritroveranno a discutere animatamente in studio. La dama confesserà di voler intraprendere la conoscenza di nuovi cavalieri e quindi non concederà più l'esclusiva a Biagio, come aveva fatto fino a questo momento. Spazio anche alle novità legate al percorso sentimentale di Riccardo Guarnieri che in questi nuovi appuntamenti con il talk show, finirà per spezzare gli opinionisti. Le anticipazioni di Uomini e Donne del mese di febbraio 2023, rivelano che Riccardo si ritroverà ad affrontare l'evolversi della sua situazione sentimentale con gloria. Lui ha chiesto di poterla vedere fuori dagli studi per trascorrere del tempo assieme ma questa volta, è stata la dama a tirarsi indietro. I due, però, hanno avuto modo di sentirsi telefonicamente durante la loro chiacchierata. Riccardo avrebbe confessato alla dama di essere quasi vicino all'amore nei suoi confronti. Tanto è bastato affinché in studio scoppiasse il putiferio contro Riccardo, il cavaliere è stato duramente criticato e attaccato. La reazione dell'uomo non si è fatta attendere e alla fine Riccardo ha lasciato lo studio furioso. Sbottando e uscendo di scena dalla trasmissione. Sbottando e uscendo di scena dalla trasmissione. Sbottando e uscendo di scena. Sbottando e uscendo di scena. Sbottando e uscendo di scena. Grazie a tutti.